ciao amici del bosco stasera ospitiamo Matteo Cereda di orto da coltivare ciao Matteo come stai ciao ciao tutto bene orto da coltivare per chi ancora non lo conoscesse ma secondo me lo conoscono tutti è un sito dove si trovano tantissime informazioni su tutto quello che serve sapere per l'orto un sito un progetto e anche il tuo è un progetto di comunicazione Matteo fate proprio cultura dell'orto sì sì l'idea è di dare gli strumenti anche chi parte proprio da zero per coltivare e per farlo in modo ecosostenibile quindi tutto assolutamente con metodi bio allora questa sera sfruttiamo la tua esperienza le tue conoscenze per parlare dell'orto in inverno cominciando a capire quali sono le piante che possiamo trovare che verdeggiano nell'orto anche in inverno quando tutti gli alberi sono spogli quando ci sono le leggerate tutto è bianco per il freddo qualcosa verdeggia nell'orto quali sono le piante che allora sì vabbè a parte il discorso climatico a seconda della zona però diciamo gli ortaggi in assoluto più resistenti sono la famiglia dei cavoli in particolare la verza e il cavolo nero che si dice addirittura che la gelata va a migliorare la qualità della verdura quindi a dare croccantezza e sapore a queste foglie che le vediamo che sono ruvide bollose sono belle consistenti e non hanno paura di temperature anche che vanno sotto lo zero quindi sicuramente i cavoli sono il numero uno diciamo dell'orto invernale poi accanto a questi possiamo mettere gli spinaci possiamo mettere radicchi cicorie lattughe eh lattughe preferibilmente le lattughine da taglio eh perché il cespo può patire un pochino di più eh chiaramente man mano che si va sempre più verso la stagione fredda eh diminuiscono gli ortaggi eh che possono reggere e a seconda della nostra latitudine eh abbiamo dei vincoli possiamo poi eh con un pochino di coperture provare a guadagnare qualche settimana però è molto importante ricordarci sempre eh che la natura c'è una sua stagionalità e non ha neanche troppo senso eh intestardirsi per andare a cambiare le cose insomma tutto ha poi eh una sua tempistica e l'orto ci insegna poi tra l'altro eh guardando poi eh la nostra alimentazione dal punto di vista della salute in realtà seguire le stagioni e quindi mangiare il cibo che sta nel campo nel momento in cui sta nel campo è la cosa migliore anche per per noi andare a forzare a cercare prodotti fuori stagione non ci non ci aiuta neppure sì sì esatto verissimo questo assolutamente senti ci sono anche altre cose che verdeggiano nel nel campo e sono tutti quei gli ortaggi che possiamo seminare in autunno e loro spunteranno puntuali rimarranno chiotti chiotti per un po' di tempo e quando le temperature si alzano li vediamo poi crescere spuntare ed essere insomma poi i primi eh frutti della terra che mangiamo con la con la nuova stagione sì qui parliamo eh di eh dei legumi per cui possiamo mettere le fave i piselli che sono semi molto resistenti da questo punto di vista eh e poi le liliacee ossia aglio eh scalogno eh cipolle eh in varietà invernale eh che sono piante che eh magari in inverno non le vediamo crescere chissà quanto però iniziano diciamo a ad ambientarsi a radicare all'inizio alla fine dell'autunno e poi quando arriva la primavera eh partono dove fa molto freddo queste piante poi vengono piantate eh a febbraio inizio marzo eh però in in gran parte dell'Italia possiamo benissimo eh cominciare a metterle eh tra ottobre e novembre eh fargli trascorrere l'inverno in campo eh e poi andranno in raccolto eh a primavera inoltrata anche eh l'aglio anche verso verso l'estate. Nelle immagini abbiamo visto anche l'aglione eh quello proprio tipico della Valdichiana abbiamo visto anche quello si può tenere in campo. Senti come possiamo aiutare comunque le piante a resistere al gelo no? Ci hai detto che un po' coprendo se si può intervenire in qualche modo per allungare la stagione. Allora sì qualcosina si può fare soprattutto eh per limitare perché non è che da un giorno con l'altro arriva al freddo. Eh ci troviamo a volte dei climi un po' irregolari dove ci sono delle gelate notturne eh che magari eh solo per poche ore eh fanno una condizione tale da mettere in difficoltà gli ortaggi soprattutto per esempio appunto le insalatine eh che sono delicate eh possono possono avere problemi di questo tipo. quindi potremmo eh mettere eh mettere del semplice TNT il tessuto non tessuto eh che lascia filtrare la luce eh lascia traspirare ma comunque fa un po' da coperta guadagna giusto qualche grado però mi protegge soprattutto dal discorso di gelata notturna quindi quella brinata che poi rimane eccetera eh e questo mi permette di guadagnare un paio di settimane su queste su queste colture. Se vogliamo tra virgolette forzare un po' di più allora dobbiamo fare una copertura eh in qualche materiale trasparente quindi in polietilene in ehm. Un tunnel quindi praticamente. Un tunnel sì di fatto un tunnel che può essere anche un piccolo tunnel fatto con degli archetti veloci eh se se si interviene in corso d'opera diciamo oppure può essere una serretta fredda eh fredda intendo non riscaldata artificialmente ecco perché se entriamo nel riscaldamento artificiale diciamo che usciamo totalmente da quella che è una coltivazione ecosostenibile cioè il riscaldamento lo possiamo usare al più per il semenzaio eh dove eh riscaldiamo un ambito di piccole dimensioni mentre invece riscaldare una serra ha un costo ecologico energetico eh molto più importante eh che non ha non ha senso affrontare per avere gli ortaggi fuori stagione eh invece eh quando parliamo di una copertura fredda significa sfruttare il famoso effetto serra per cui il telo trasparente fa entrare i raggi del sole trattiene dentro il calore anche qui non aspettiamoci chissà quale eh riscaldamento eh però quei tre quattro gradi magari li guadagniamo che vuole dire eh tre quattro settimane in più eh per per quella verdura che in un orto familiare fanno sicuramente piacere ecco una cosa importante un consiglio importante se facciamo dei tunnel piccoli ricordiamoci comunque che mentre il tessuto non tessuto traspira quindi io posso anche stenderlo proprio sopra l'insalata come una coperta invece il telo eh il telo plastico eh crea di fatto un ambiente che se questo tunnel non è arieggiato ma è chiuso a campana eh può favorire le malattie far morire le piante certo perché rimane una grande umidità là dentro esatto va ventilato in quel caso andrebbe scoperto durante il giorno e quindi anche un po' più 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 laborioso senti della pacciamatura cosa ne pensi proteggere le radici no attraverso una bella copertura può aiutare anche questo allora sicuramente un po' aiuta dopo c'è da dire che nella maggior parte delle piante che abbiamo citato di fatto poi è l'apparato fogliare che andiamo a raccogliere eh e che è anche più delicato quindi eh va benissimo pacciamare però eh io per dire pacciamarei a questo scopo piuttosto non so le aromatiche perenni come possono essere la salvia rosmarino eh che stanno lì tutto il tempo quando arriva un freddo che mette in difficoltà l'apparato radicale tendenzialmente su una lattuga da taglio anche le foglie sono già andate non dico che non serva però nell'ottica di di forzare qualche settimana in più la il primo accorgimento più importante è quello di una copertura eh che può essere un tnt o un telo la pacciamatura è una cosa in più secondo me vale la pena appunto eh se abbiamo da proteggere delle specie perenni eh che magari stanno quando fa proprio molto freddo hanno dei fusti legnosi che resistono bene eccetera certo conviene in questi casi eh senti è una cosa che non si può fare quasi per niente in l'inverno è lavorare la terra soprattutto se si è piovuto facciamo danno se andiamo a lavorare quando la terra è troppo bagnata sì sì assolutamente allora diciamo che eh più che l'inverno l'autunno eh generalmente entro l'inizio di dicembre ehm è un momento ideale per fare una lavorazione del suolo nel senso che eh l'orto è per buona parte vuoto quindi eh molto probabilmente abbiamo ampi spazi dove possiamo eh fare una bella lavorazione e magari approfittarne anche per fare una concimazione di fondo quindi apportare ammendante sostanza organica che può essere il compost può essere l'etame incorporarlo al terreno e lasciarlo lì che abbia tutto il tempo per diciamo ambientarsi eh e iniziare a interagire al meglio con il suolo prima che arrivi una semina inoltre lavorare il terreno prima dell'inverno è molto positivo perché eh il terreno che io diciamo eh strutturo eh con può essere una forca vanga per esempio eh poi beneficerà eh delle gelate perché cosa succede l'acqua nel terreno ghiacciandosi si espande e col disgelo ritorna in forma liquida e percola quindi ho di fatto una lavorazione naturale del suolo eh molto efficace per questo è tradizione eh andare a lavorare il terreno in autunno eh tra ottobre e novembre se però io ho un terreno che è già fradicio d'acqua eh non va assolutamente bene qualunque forma di lavorazione perché lo si vede proprio che va a danneggiare in maniera importante eh la struttura fisica del suolo cioè eh quando io eh maneggio qualcosa di fangoso eh lo vediamo proprio come si eh come si spiaccica come si compatta eh e questo eh l'effetto che ho sul suolo è quindi di eh eh ottenere il contrario di quello che vorrei cioè io vorrei dissodare rendere il terreno soffice eh e invece al contrario così compatto tutto esatto esatto per cui assolutamente si dice terreno in tempera che cos'è è un terreno che non è completamente eh asciutto perché non va bene neanche lavorare eh un terreno arido ma sarebbe anche difficile per certi terreni riuscire assolutamente eh per cui un po' di umidità il suolo la deve avere ma non deve eh essere bagnato eh per cui per esempio prendendo in mano una manciata di terra strizzandola eh vedo uscire acqua ecco se c'è un autunno troppo piovoso si può intervenire sempre se l'orto è piccolo stiamo parlando di piccole estensioni con una copertura anche di plastica da diciamo da per riparare il terreno dalle eccessive piogge da poi da scoprire quando arriva un po' di sole e un po' di vento sì sì e tra l'altro volendo eh questo metodo di copertura può essere anche un'alternativa alla lavorazione nel senso che se io prendo un terreno che preferibilmente ha già eh dell'erba infestante spontanea lo copro con i teli per lungo tempo eh poi quando andrò a scoprire il terreno troverò tutto molto morbido perché eh avrò eh fatto perdere fotosintesi a tutte a tutto l'erba eh l'erba presente che poi con le sue radici ha di fatto ammorbidito tutto eh per cui è una tecnica che si usa proprio anche in sostituzione eh della della vangatura sì abbiamo fatto dei video anche su questo argomento con il bosco di oggi è molto interessante è una bella sorpresa quando si è lasciato il terreno coperto per tanto tempo e tutti i microrganismi hanno lavorato per noi eh senti però visto che non si possono fare troppe cose appunto dopo aver preparato il suolo non si può esagerare soprattutto se la terra è bagnata eh cosa facciamo in inverno perché l'orto in realtà ha bisogno anche di attività invernali però di natura diversa cosa ci consigli? Allora sì questo ce lo insegnano un po' eh i contadini nel senso che eh ogni periodo ha alle sue stagioni ai suoi lavori eh durante l'inverno per dire a dicembre in campo non c'è veramente niente che quasi niente che possiamo fare eh in alcune condizioni quindi possiamo approfittarne per esempio per rivedere gli attrezzi eh fare quelle piccole manutenzioni sicuramente c'è qualcosa con il manico che balla eh e ci va messo un chiodo eh c'è qualche eh forbice da affilare qualche attrezzo che non è stato pulito ed è incrostato di terra. Allungiamo la vita anche agli attrezzi perché gli attrezzi che insomma dobbiamo prenderli buoni e dobbiamo trattarli bene perché possono durare per generazioni. Io ho ancora le zappe penso dei miei bisnonni penso qualche pezzo e non me ne prendo cura come dovrei. Eh quindi queste cose che durante l'anno sempre eh non abbiamo tempo di fare eh è il momento di prenderle in mano. Poi ehm può essere anche un buon momento per pensare a che cosa si farà l'anno prossimo. Quindi mettersi lì a tavolino per una volta eh procurarsi magari una tabella delle consociazioni, delle rotazioni, fare un bel disegnino di quello che è il terreno che vogliamo coltivare, decidere dove mettere cosa ragionandoci sopra. Tante volte eh nella bella stagione ci si fa prendere, si va in vivaio, si vedono tante cose, si fa scorta, si butta giù tutto. Però eh se si riesce a ragionarci un po' a tenere nota di quello che si fa facendo le opportune rotazioni delle consociazioni si crea un orto eh che ha molte più sinergie tra le piante presenti, tra le piante che c'erano prima, che seguiranno e quindi si ottengono dei bei vantaggi. Possiamo approfittare di questi mesi quindi per una bella programmazione. Almeno insomma eh la fine dell'anno è sempre tempo di buoni propositi e quindi eh vale la pena farli anche anche per l'orto. Eh e sempre in questo tra l'altro scusa mi viene mi viene in mente una cosa se non si sono autoprodotti da solo i semi anche il periodo in cui immaginare cosa si vuole nell'orto e cominciare a cercare i semi che si vogliono mettere in campo. Sì magari anche entrando in contatto con altri coltivatori per fare degli scambi c'è non dobbiamo per forza comprare eh potremmo anche eh appunto eh cercare un po' chiedere e fare qualche scambio culturale che sempre eh porta a scoperte interessanti. E poi eh vale la pena anche di approfittare del del calduccio della casa mentre l'orto se ne sta fuori sotto il il manto del gelo per studiare un po' perché c'è sempre non si finisce mai di imparare nell'orto diciamo così insomma è l'ora di anche di studiare cose cose nuove per esempio nel sito di orto da coltivare potete trovare tante informazioni se vi viene in mente voglio fare un ortaggio nuovo ne avete messi tantissimi informazioni su tantissimi ortaggi. Sì sì poi vabbè a parte il mio sito eh ci sono tantissimi libri interessanti tantissime tecniche tantissime cose da scoprire a cominciare da conoscere un po' meglio eh il suolo i microrganismi che lo popolano renderci conto avere più consapevolezza in quello che facciamo eh fino appunto a a leggere delle tecniche di coltivazione eh può far venire tante belle idee quindi eh sicuramente una bella lettura al calduccio del camino della stufa eh è un'attività piacevole e proficua eh rispetto a quello poi che sarà l'anno prossimo. Ecco poi tra l'altro eh orto da coltivare ha anche prodotto un corso proprio un corso per l'orto orto facile giusto? Avete proprio realizzato un corso quindi a disposizione quello per per studiare di più per l'altro è ricchissimo di materiali quel corso eh oltre appunto al grandissimo contributo di Sara Petrucci che è una degli autrici no del del sito. Sì Sara è un'agronoma molto in gamba eh che con cui collaboro da tempo e che ha fatto una buona fetta dei contenuti di orto da coltivare con cui ho scritto un libro e con cui abbiamo messo in piedi questo corso che è un corso online l'abbiamo fatto un anno fa un po' più di un anno fa quindi non è nato eh dietro la situazione covid di essere chiusi in casa è nato proprio dalla voglia di fare un corso che potesse restare perché eh il non sostituisce un corso dal vivo dove si vedono le cose si si mettono le mani nella terra però viceversa anche dei lati positivi la formazione online su una cosa complessa come l'orto eh perché permette di andare a vedere la singola lezione nel momento giusto cioè se io faccio un corso di orto di tre giorni oggi eh passo dalla preparazione del terreno alla raccolta eh che sono in realtà fasi che richiedono mesi invece col videocorso si può anche eh andare a rivedersi i pezzi man mano che vengono fuori delle domande eh il corso è pensato con un diciamo l'ossatura eh la parte video che ha fatto interamente Sara perché è molto più brava di me in queste cose ehm io invece ho curato degli approfondimenti che sono eh vabbè delle piccole introduzioni ma poi degli approfondimenti che sono dei link a risorse esterne che si trovano sul web eh dove ci sono cose veramente molto interessanti eh disponibili gratuitamente e quindi mi piaceva l'idea di segnalare un po' di fonti che sono prima di tutto per me state ispirazione e poi ultima cosa diciamo che il corso offre come possibilità che a me piace moltissimo è l'interazione il fatto che eh un corso online ha la possibilità sotto ogni lezione in ogni momento di fare delle domande a cui poi dopo io eh vado a rispondere ma eventualmente anche altri utenti quindi uno scambio di pareri e quello che mi è piaciuto è molto importante cioè non si acquista un qualcosa di statico ma in realtà è anche proprio una una relazione una serie di occasioni via apprendimento anche proprio specifico poi ci sono delle chicche all'interno del corso hai fatto preparare un atlante degli insetti che si incontrano nell'orto quella è veramente una cosa bellissima ci facciamo una puntata un'altra volta solo per questo sì questa è una cosa che proprio io volevo fare perché è molto difficile trovare delle immagini fatte bene dei vari accidenti tra virgolette che possono capitare ma al tempo stesso eh mi piaceva anche dar modo di osservare la bellezza poi eh di alcune forme di vita che noi siamo abituati a a vedere solo come i nemici no e quindi ho trovato un'illustratrice botanica davvero bravissima che si chiama marina fusari eh e le ho diciamo le ho commissionato queste eh sono più di 50 tavole che rappresentano quelli che dovrebbero essere insomma eh gli insetti nocivi più più frequenti eh che si incontrano nell'orto eh abbiamo visto alcuni molto familiari scorrere dei grandi amici nostri nell'orto no bisogna conoscerli poi in realtà perché non sono nemici in assoluto tra l'altro bisogna conoscerli eh saperli riconoscere conoscere le loro abitudini e quindi poi studiare le tecniche per renderli inoffensivi cioè un meno eh cioè far sì che insomma il loro intervento non non crei problemi veramente drastici drastici nell'orto comunque mi piace molto veramente questa idea del corso online complimenti perché poi insomma in questo momento è bello che sia nato eh in altri momenti ma adesso che dovremo di nuovo insomma fare attenzione passeremo l'inverno abbastanza al chiuso avere occasioni per per approfondire per avere uno scambio e per prepararci alla prossima stagione dell'orto comunque in descrizione mettiamo il link del corso così eh chi ha voglia di curiosare può venire a vedere il programma poi sceglierà insomma se vuole vederselo tutto eh oppure oppure no Matteo eh ti aspettiamo al Bosco di Ogigia uno sconticino anche per per gli iscritti di i follower del Bosco di Ogigia eh va bene abbiamo la nostra prima offerta speciale abbiamo il corso di orto facile con uno sconto speciale per il pubblico del Bosco di Ogigia ok senti quando verrai al Bosco di Ogigia però fisicamente adesso appena appena sarà possibile quando sarà possibile molto volentieri ho proprio voglia di farmi un giro dalle vostre parti che tra l'altro sono bellissime io da Brianzolo eh non che non non mi piaccia la mia terra però eh resto incantato insomma ad alcune zone d'Italia ok va bene l'ata la Toscana va bene allora faremo dei video insieme proprio ormai è scritto oltre a quelli questi che stiamo facendo a distanza le faremo sul campo grazie grazie mille Matteo Cereda di Orto da Coltivare ci ha dato consigli per l'orto invernale ci vediamo presto la manina di Filippo mi mette un po' di ansia ma eccola qua ciao a tutti ci vediamo al prossimo video con il Bosco di Ogigia ciao ciao a tutti